si ragazzi allora eccolo lì un piccolo squaletto hanno preso il mondo è un pollo che mi è stato molto diverso quattro pi chiamo il mio amico spero che e il nostro amico un po' ma un po' il nostro amico 40m il nostro è stato un po' il nostro il nostro è stato molto 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 Grazie a tutti. Sì 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 ... non è che cosa è che fa non c'è mai com'è si truppo, che si truppo c'è il truppo, che si truppo guarda si truppo, che si truppo guarda, guarda 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Anthem Puoi essere fuori? Sì Chi èцевissimo Sì 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 ecco io 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 gli alpino non lo fa io la porta con l'ombra che vuoi coiаксим perchè l'u'll graga ha 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 a non ciò che fa non lo ah 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 big number one yeah 40m oh very good good ha ha ah 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 how far is it 40m ah good spot ah 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 ok ah 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 Sì, sì, sì. . 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 sì ragazzi allora eccolo lì un piccolo squaletto hanno preso incredibile eccolo là ok no 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 purè pa purò no no I 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